C'era una volta, in un mondo lontano, un oggetto curioso di aspetto balzano. Era una macchina che trasformava e l'alluminio così riciclava. Quando di giorno lo spazzino correva e i rifiuti in città ovunque collieva, passava per strada, altezzosa e fiera, una lucente e graziosa cappettiera. Su di lei, al spazzino sconsolato, gli occhi bramosi aveva posato. Il suo sguardo rapito splendeva ed il suo cuore all'or si rompeva. Pur di abbracciarla era pronto a tutto, provò riciclarsi e diventar meno brutto. Uscì come nuovo, lucido, aitante e corse per strada con passo brillante. La caffettera, sai bella e fatal, si innamorò alla vista di Al. Finisce così la fiaba narrata, ma la storia d'amor è appena iniziata. E non si dispera il fidanzato mollato, che nel frattempo si è già riciclato. E non si dispera il fidanzato mollato,